L'ala del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione riguardante la relazione sull'attività svolta nel 2022 dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana Camilla Bianchi. Ultima seduta dell'anno scolastico a Palazzo del Pegaso per il Parlamento regionale degli studenti. Si veste a festa Torrita di Siena per Torrita Blues 2023, 35esima edizione del Festival di Musica che si svolgerà nel Borgo dal giovedì 22 a sabato 24 giugno. Garante infanzia e adolescenza approvata la relazione sull'attività 2022. L'aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico la proposta di risoluzione sulla relazione sull'attività svolta nel 2022 dal garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana Camilla Bianchi. Contrario il voto di Forza Italia, non si sono espressi gruppo misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia, mentre la Lega non ha partecipato al voto. Nel testo, espresso l'apprezzamento per l'attività svolta dalla garante, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui crescenti problemi, anche effetto della pandemia da Covid-19, legati al disagio psicologico e alle dipendenze che affliggono i minori e sulla conseguente necessità di investire a tutti i livelli istituzionali nella prevenzione, nell'accesso a forme di supporto adeguate e nelle azioni di sensibilizzazione al fine di incidere in modo positivo il duraturo sulla vita di bambini e adolescenti. Viene specificato come sia opportuno che tali finalità siano perseguite per quanto di competenza del garante per l'infanzia e l'adolescenza, mediante la ricerca di una profeico e continua sinergia con i garanti che operano a livello comunale e in coordinamento con le azioni della giunta regionale portate avanti in materia. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022 e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del garante nel corso del 2022 nel fatto che il garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano ma anche a esigenze sopravvenute derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari così come intensa è stata l'attività del garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Ad ogni buon conto con l'auspicio che si possa arrivare presto anche ad una revisione della figura del garante per l'infanzia la normativa infatti del 2010 quindi piuttosto risalente anche alla luce delle diverse figure di garanzia che esistono o che dovrebbero esistere a livello regionale il Consiglio ha comunque approvato a maggioranza la risoluzione che ha espresso apprezzamento all'attività del garante per l'infanzia per l'anno 2022. Durante l'ampio dibattito il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Torselli ha sintetizzato l'impegnativa contenuta nell'ordine del giorno del suo gruppo in cui viene chiesta una riorganizzazione generale della struttura per garantire una piena e migliore funzionalità. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè chi governa deve essere in grado di mettere la garante o dicono alla garante che non è adatta a fare la garante, che le sue richieste non sono consone e quindi non sono coerenti con quanto la regione toscana pensa di quel ruolo e quindi la invitano a fare altro oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice ho bisogno di struttura e la regione toscana anziché dirgli non è vero non hai bisogno oppure se ne hai bisogno eccola diciamo auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. Un'urgenza quella di razionalizzare le troppe figure di garanzia che ci sono nell'ordinamento regionale sottolineata anche dall'isatozzi del gruppo misto toscana domani. È chiaro che in questo momento parlare del garante per l'infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze in cui degrado, marginalità, sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi ma diventa anche quasi preonastico parlare del ruolo del garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in regione toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili. Senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione. Il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche, diciamo, efficaci per famiglie e giovani. Il consigliere Casucci ha parlato di dati vecchi e preoccupanti, come quello che evidenzia come il 10% dei minori in Toscana viva sotto la soglia di povertà. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garanti ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e di un interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione delle Garanti per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso Garanti parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma prima che iniziassi il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Per il consigliere Scaramelli occorre uno sforzo maggiore da parte della Garante. Sono stato io in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del Garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis. Crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quelle ragazze che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo e il cyberbullismo ma anche questioni che riguardano un uso consapevole del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e massima attenzione a quelle che sono anche alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Ultima seduta per il Parlamento degli studenti Ultima seduta al termine dell'anno scolastico del Parlamento regionale degli studenti. L'assemblea si è tenuta lunedì 12 giugno a Palazzo del Pegaso, tante l'iniziativa a cui i ragazzi hanno preso parte e che sono state ricordate in occasione della seduta. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha voluto rivolgere un ringraziamento alla presidente Maria Vittoria D'Annunzio e a tutto il Parlamento degli studenti per il lavoro che hanno svolto in questo ultimo anno. Sono convinto che abbiano degnamente saputo rappresentare i 160.000 studenti toscani, ha detto Mazzeo, ricordando gli incontri e le esperienze di questo mandato, i progetti sul tema della legalità dell'Europa e della memoria. Sono orgoglioso di come abbiano cercato di porre all'istituzione le istanze dei loro coetanei. I 18 progetti che hanno approvato quest'anno ne sono la dimostrazione, ha aggiunto Mazzeo. Oggi è l'ultima seduta della legislatura del Parlamento regionale degli studenti della Toscana che vede con la fine dell'anno scolastico anche la fine della legislatura. Sono stati tanti gli incontri e gli eventi che abbiamo portato a termine quest'anno, fra le più importanti, la visita di una delegazione del Parlamento a Bruxelles, alle sedi del Parlamento europeo, per conoscerne il funzionamento. Non solo, anche un evento portato a termine contro la violenza psicofisica negli sport e fra gli incontri che più ci sono rimasti nel cuore è di sicuro l'incontro con Vera Vigevani Yarak, ovvero una madre e una donna che è scappata dall'Italia durante il periodo dell'Olocausto e che anni dopo ha visto scomparire la figlia fra i desaparecidos. È stato un anno pieno di emozioni, un anno pieno di incontri che ci porteremo per sempre nel cuore e sicuramente è stato un anno molto formativo per tutti noi. Torna il Torrita Blues Festival. Torrita di Siena si veste a festa per Torrita Blues 2023, 35esima edizione del Festival di Musica che si svolgerà nel Borgo, nel cuore della Toscana, dal giovedì 22 a sabato 24 giugno. Torrita Blues è uno dei più importanti festival europei che si svolge da oltre 30 anni a Torrita di Siena in un bellissimo paesaggio nel cuore della Toscana. Tra le meravigliose colline vicino Pienza, Montepulciano, Montalcino e Cortona c'è un piccolo castello medievale chiamato Torrita di Siena dove ogni anno durante l'ultimo weekend di giugno si svolge il Torrita Blues Festival. Il festival è nato nel 1989 grazie ad un gruppo di amici amanti del blues. Quest'anno il Torrita Blues Festival festeggia 35 anni di attività, collocandolo come uno dei più importanti e longevi festival blues in Italia, in Europa e nel mondo. Sono tantissimi gli artisti blues internazionali italiani ospiti del festival. Un evento importante, un evento che racconta bene la bellezza di una Toscana diffusa. Torrita Blues renderà Torrita la capitale toscana della musica, del blues in questi giorni. Un evento importante, un evento da far conoscere, un evento che tiene insieme cultura, che tiene insieme arte perché Torrita è uno dei borghi più belli della nostra regione, che tiene insieme anche la capacità di saper fare solidarietà. Questa è la Toscana. Ci sarà una cena in cui le risorse verranno messe a disposizione di Casa Marta, un luogo bello, un luogo importante, un luogo che aiuta i bambini che soffrono. Quindi grazie davvero per queste giornate che siano momenti di festa, di divertimento ma anche di solidarietà. Presentiamo una manifestazione molto legata al territorio, ha detto la consigliera regionale Elena Rosignoli, che è diventata uno dei festival più importanti a livello europeo, richiama grandi artisti appassionati di musica ad ogni parte d'Italia. È una manifestazione molto legata al territorio però è giunta alla 35esma edizione, 35 anni insomma in una realtà come Torrita di Siena inizia ad essere molto importante, anche se importante lo è per definizione perché è uno dei festival più importanti a livello europeo. richiama grandi gruppi blues, richiama tanti appassionati e tante persone legate a questo genere di musica e insomma in questi tre giorni il castello di Torrita di Siena è un castello medievale molto bello, si riempie di persone, di artisti, c'è quella bella atmosfera dei festival musicali e insomma si respira in tutta la zona. Un invito a vederlo per i nomi che ci sono quest'anno, tutti gli anni, ma quest'anno in particolare insomma abbiamo anche rene grandi. La prima serata di giovedì 22 giugno inizia con la tradizionale scena per raccogliere fondi a sostegno di Casa Marte, il concerto con i vincitori di Effetto Blues 2023. Venerdì 23 giugno dopo il riuscito esperimento dello scorso anno con Alex Britti, la 35esima edizione vedrà protagonista un altro importante nome della scena musicale italiana Irene Grandi. La terza serata vedrà il ritorno a Torrita di Siena del Chicago Blues. Il giovedì si apre con tre band che sono quelle vincitori di Effetto Blues, il 23 si aprirà con tre band, inizia Trio Insolito, si chiama Trio Insolito perché sono in quattro, la piccola chicca è perché sono dei professionisti, tra l'altro uno professionista in termini di vita perché sono primari o medici dell'ospedale di Bologna e dell'università, i quali essendo appassionati di blues vanno in giro per l'Italia a raccontare la storia e quindi sarà una piccola chicca che aprirà poi quella che ha la veletta, seguirà i Crossroad. I Crossroad sono una band che ha vinto l'Italian Blues Challenge, quindi poi sarà veramente una piccola chicca italiana perché quest'anno sarà presente Irene Grandi. Irene Grandi rappresenta in questo momento un motivo particolare perché ha questo progetto che si chiama Io in Blues, nel quale riassume un po' la sua carriera come dall'inizio, rendendo omaggio a quella che per lei e per tutti noi è la musica che ha dato origine a tutto quello che ascoltiamo. Per noi è un grande piacere avere Irene come ospite e soprattutto in questa versione, in questo progetto dove farà un concerto esclusivamente blues. Sabato 24 ci saranno due altre piccole particolarità, la prima è Alberto Visentin che riteniamo sia una delle novità importanti sul panorama blues nazionale. A seguire quello che ormai inseguiamo da più di dieci anni, calcherà quel palco prestigioso di Torrita, così osiamo definirlo, perché abbiamo ospite il primo genito del grande Muddy Waters. Muddy Waters, lo conoscete tutti, è uno dei miti del blues e lui è il primo figlio. Guardate, ve lo dico e ve lo anticipo, chiudendo gli occhi, oltre che sentirlo ovviamente suonare, sembra di veramente di avere suo padre che canta e quindi per gli appassionati è una delle grandissime vedette insieme ovviamente a Rene Grandi che raccoglie questa 35esima edizione del Torrita Blues. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.